Ritmo in piazza comunale a San Marco di Castellabate per il concerto delle Ninfe della Tamorra. Uno spettacolo gratuito inserito nel vasto programma della rassegna Castellabate il luogo dell'incanto, diretta da Girolamo Marzano, promossa dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune e cofinanziata con i POC della regione Campania. Lo spettatore è stato travolto dal talento del gruppo di artisti, fondato e diretto da Serena della Monica. Tra le danze e i canti del sud Italia, dalle Tamorriate alla Pizzica, alle storie di Briganti, a Stornelli e Serenate. Il nostro è un viaggio, un viaggio a sud, un viaggio nelle terre del sole che parte dalla Campania, che è la nostra terra. Inizio dell'Infe della Tamorra, Carlotta, Sara, Serena. Vi aspettiamo. Ciao!